Io arrivai in America nel 14 e quando arrivai a Baltimore, era il più bel posto che avessi mai visto. Si mettevano i soldi nel cappello per far venire in America i cugini, le zie e le zie. Oh Sam, quante volte dobbiamo sentire questa storia? Chiuso! Su! Se tu smetti di ricordare il passato... Sì, diventi. Ah. E cos'è quello? Televisione. Candidato a quattro premi Oscar a Avalon, giovedì alle 20 e 55.